Ciao, mi chiamo Lisa, ho quattro anni e ho fatto i presenti con la mia mamma. Non ho tutto la mamma, tutto io. Questa, questa è Gesù. Poi chi c'è? Maria. E poi? Quanti l'anino? E Giulia. Qual si chiama? Giuseppe. Poi ci sono i pastori. Questa è la pecorella. Aiuto. Il sorello che vuole dormire. E qui c'è il passione. Questa è la pecorella. Di che sono meglio. E poi? Qui c'è là in alto. Lai in alto? C'è la nonna Rita. La nonna Rita, il violetto. Le mie mani. E tu le mani. E sei tu che tiene il presepio. Bellissimo. Brava amore. Brava brava. Un bacio alla mia Lisa. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.